Dimenticate la Toscana, scoprite le colline e le spiagge delle Marche, la regione segreta d'Italia. È l'invito rivolto dal Sunday Times che nell'edizione online dedica un ampio servizio alla regione, corredato di foto dalle spiagge di Porto Novo, provincia di Ancona e di Fiorenzuola di Focara all'immancabile Urbino, fino ai paesaggi dei Monti Sibillini. Il Domenicale del Times esorta ad evitare la folla del Chianti Shire e propone una serie di tappe. a seconda dei gusti. L'arte, Urbino e Recanati, luoghi più noti, il paesaggio, la buona cucina, Mauro Uliassi e Moreno Cedroni, il mare, la montagna e la collina, le mete di charme, segnalando una differenza importante con la Toscana e l'Umbria, le sue vicine più vistose. Urbino e Recanati sono affascinanti come ciò che può offrire la Toscana, si legge, con arte e architettura, prezzi bassi e neppure un po' di coda. Grazie. Grazie.